...e concluso da Papa Paolo VI e ovviamente poi c'era un po' tutta quella che è favorevole soprattutto per quanti in questa giornata hanno voluto attendere Papa Benedetto XVI, hanno hanno voluto salutarlo Grazie 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 Mi dà una lettera che affida a lei con l'anima che loro hanno espresso collegialmente Grazie 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 Grazie.